Signor Gheddafi, signor Gheddafi, con tutto il rispetto, signor Gheddafi, non so, siete un po' in cazzosette quando ci mettevi, io con tutto il rispetto le voglio bene, lei ha la sua famiglia, i figli, quello che è, insomma, ci abbiamo un trascorso, adesso abbiamo fatto la pace, e sono veramente, poi io lo conosco, insomma, vivendo in Sicilia, per noi, la Libia, io con Gheddafi, insomma, ci giocavo a ping pong da Porta Empedocle, mi mettevo lì a Porta Empedocle, Gheddafi stava di là, mi tirava la pallina, e io dico io, ma non so, a Gheddafi, e poi gli viene in mente, vado a fare un po' di campeggio, dove me ne vado, un po' di campeggio, si è portato proprio, sai il coso, il lumino lì, lo zampirone, c'ha tutto, dove se lo va a fare? A Villa Panfili, ah, ma la cosa bella, dici, viene Gheddafi, viene Gheddafi a Roma, ci sono i manifesti, l'avete visti voi che vivete a Roma, i manifesti, io sono uscito di casa, l'ho visto da lontano, non l'ho riconosciuto super, perché Carlo Conti fa una serata a Roma, ha detto, non lo so, pensavo fosse Carlo Conti, o?